Alla fine il Ravenna ha ritrovato il suo attaccante di peso, Manuel Nozzolini. Dopo traversi di mercato il DS Matteo Sabadini ha fornito a Mr. Foschi il centravanti barbuto che sarà la principale bocca da fuoco giallorossa. Sono felice di continuare con questi colori perché comunque è una società importante che mi ha dato la possibilità l'anno scorso di esprimermi al meglio e mi sono sentito di ripagare questa fiducia anche quest'anno. Il chiodo fisso, migliorare il bottino di reti dello scorso anno. L'obiettivo è quello lì, sicuramente migliorare lo scorso dell'anno scorso e fare qualcosa in più per questi colori. Ora però massima concentrazione e parlerà il campo. Mi aspetto delle cose importanti, ho visto un gruppo unito che si conoscono da poco, anche io sono arrivato da settimana e quindi ci sarà modo ancora di migliorare questa cosa però sono convinto che grazie all'aiuto di tutti faremo un campionato importante.